Na 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 Beh ragazzi io il mio Marraff e oggi siamo su PewDiePie Stuber Simulator Key feeling with Un gioco di PewDiePie Se non l'aveste capito Va va fanno Ciao PewDiePie oggi scopriremo come fai così tanti iscritti Che cazzo vuole? E' come i tuoi cagnolini siano così carini Che bellino quel polipo No, vabbè, ripetilo, per favore Ricco Pasquale praticò Che bello, che benessere Che benessere Ok, possiamo cominciare Siamo una ragazza? Perché siamo una ragazza? Dimmi qual è il problema Sì, lo so che siamo in PewDiePie Tumor Simulator Giriamo un video, così a caso Sì, vai Prima di tutto serve una videocamera Con cosa li vuoi fare? Con lo scatolone? Vabbè, vabbè, ho capito Lo so, devo comprarla E non ci vuole un genio per capirlo In ogni caso, prendi questa videocamera Offro io questa volta Grazie PewDiePie Con tutti i soldi che hai, dovresti offrirmi ogni volta E lo credo bene Puoi posizionare quasi ovunque Proprio come nella vita reale Un normale youtuber la posizionerebbe qua No, sto scherzando Sopra il computer? Si può? No, che figata Sopra il computer Oh, ma Scusa Dove è andata? Riga è sparita la No, riga Ah, ecco Ma io l'avevo messa sopra Il monitor Nolli Io mi incazzo Finalmente giriamo un video Vai Vai PewDiePie Si comincia a guadagnare Amaravacci Ciccocotro E ci mette sul coma Che faceva Basta Questa Cosa è quella faccia? Guarda che fascia Cosa? 33 visual Ehm Non ti dimenticare di riscattare il video per ottenere iscritti Madonna, magari fosse così Aiuto, non insedi niente Cosa sono questi trucchi? No, come li hai fatti i tuoi 40 milioni? Ora perché non ti Anzi, no, no, no Con quella faccia Ora perché non ti ricchi al negozio Per vedere cosa puoi acquistare Wow, sei poverissimo Oh PewDiePie Cos'è? Com'è che ti vanti così, eh? Non è che siamo tutti ricchi come te Possiamo permetterci una scatola Ma questa poraccia Non ha una casa Vive in una camera Che sembra una casa di un barbone No, i barboni non hanno No, i barboni hanno una casa più bella Ma uno scatolone In cantina ce lo avrai E cosa me ne faccio io di sto scatolone? Vai, mettilo qua È ridicolo Ci vuole troppo tempo Ma sono 24 secondi Puoi rendere le spedizioni più veloci Usando i verdoni Eeeh Eeeh No, no, no Io lo so che i verdoni sono come le gemme in Clash Royale E quindi non li sprecherò Quindi PewDiePie tu non mi freghi No, non li spenderò mai Nella vita Non lo farò per te PewDiePie Io aspetterò 24 fottuti secondi Ma ho notato che resta sempre su 24 secondi Quindi mi sa che devo usarli per forza i verdoni Mannaccia se PewDiePie mi frega così Io non lo so Mi disiscrivo dal suo canale Hello darkness my old friend Vabbè dai ti accontendo PewDiePie Ti accontento toh Sì Vai Solo perché mi hai fregato È arrivata una nuova spedizione Ah devo picchiarla Ah una Dentro una scatola ho trovato un'altra scatola Amazon fa i bei lavori Grazie Wow che figata Si può ringrandire la stanza Ovviamente costa verdone Non te li darò mai PewDiePie Ho già sprecato un verdone per una fottuta scatola Che non mi servirà niente Ma va bene così Possiamo girare un fottuto video Mamma mia il mio secondo video Ho sentito un'aquila Ok forse no Ho sentito un'aquila o sbaglio Stai dicendo solo boiate Un'altra Ancora Ma vaffanculo Chi è quell'aquila fottuta che gira in casa mia Chi cazzo ha parlato Madonna ti picchio Chi è quel lurido stronzo come un... Allora il mio video è pronto o no Dai esci il video Esci il video Esci il video Wow 29 visual 23 scherzavo E 2 iscritti Che dopo aver visto questo video Si disiscriveranno Ho sentito l'aquila Ma vaffanculo L'ho vista C'era un'aquila Anfame Oh L'ho presa Pedizione aquila sponsor Cosa sarebbe? Ti chiamo l'aquila Wow 25 visual Grazie Wow Che figata sto gioco Mi piace un casino Ciao aquila Eh ti ho preso eh Wow potrei diventare ricco solo a toccare le aquile 5 iscritti Yeah Guardate che figata posso mettere roba Madonna regà Non vedo l'ora di andare avanti Ovviamente lo farò qui con voi Comunque grazie per questo episodio È tutto Se vi è piaciuto Lasciate un piaccio E commentate Iscrivetevi Noi ci vediamo al prossimo Un prossimo video Beh ragazzi Beh ragazzi Il mio marraffe Oggi Siamo qui E ritornati su Clash Royale In questo tempo che non ho fatto video Sono successe un